Inaugurato nel piccolo comune di Castelcastagna, nel Terramano, il Presidio Sanitario di Medicina Territoriale della Asle, situato sulla strada provinciale 491 all'altezza di Santa Maria di Ronzano. Un punto di erogazione delle prestazioni di base succursale del distretto di Montorio, che ospiterà per quattro giorni alla settimana quattro medici di medicina generale e tutte le mattine per cinque giorni alla settimana gli infermieri di comunità, assicurando medicazioni, monitoraggio e telemedicina. Una struttura che era ferma, perché durante il periodo Covid non abbiamo potuto focalizzare le energie per aprirlo, oggi si apre, ma l'importante è l'attività che verrà svolta presso questo presidio, partendo dalle possibilità di poter effettuare le analisi, ma soprattutto ricevere visite specialistiche nelle varie discipline. Le strutture di prossimità come quella inaugurata nel comune della Valle Siciliana sono frutto dei fondi del PNRR, infatti circa 200 milioni sono stati destinati dalla regione principalmente alla sanità territoriale. Questo è il modello organizzativo che la regione Abruzzo ha messo in atto quando ha presentato la rete territoriale che è stata approvata dal Ministero, che vede l'apertura di case di comunità, di ospedali di comunità, ma dove non ci sono sede così definite case di comunità ci saranno presidi proprio come questi, che svolgeranno le stesse funzioni con fondi regionali. Un progetto frutto di un protocollo d'intesa tra la ASL che ha fornito gli arredi e si occuperà del personale sanitario e il comune di Castelcastagna che ha adeguato l'edificio e sosterrà le spese di gestione. Per noi è importantissimo, per noi delle aree interne, pensare che oggi venga aperto un presidio è un sogno perché questa è la vera strategia delle aree interne, cioè portare servizi nelle aree interne. In comunità come le nostre, dove anche l'età comincia a essere avanzata, avere un presidio a servizio dei cittadini, un presidio di medicina di prossimità, è fondamentale. Fondamentale per i cittadini, per coloro che ci vivono nei nostri territori, ma è anche fondamentale perché va a decongestionare quelle che sono le strutture più grandi e più lontane. Fondamentale